È iniziato il conto alla rovescia Villa Gioia per l'approvazione del bilancio comunale. Entro il 25 maggio, ultimo giorno utile, dopo la diffida del prefetto, partita dopo il mancato via libera nei termini previsti dalla legge del bilancio, il Comune dell'Aquila dovrà approvare lo strumento contabile finanziario o si arriverà allo scioglimento del Consiglio Comunale. In attesa che arrivino fondi, dopo le promesse dal Governo, è arrivato il via libera dai revisori dei conti, anche se all'orizzonte si prospetta un'altra mazzata per i contribuenti aquilani, che dopo l'aumento del 20% delle scorse settimane potrebbero veder salire di un ulteriore 30% il costo della Tari, la tassa sui rifiuti. Il Collegio dei Revisori, infatti, ha espresso parere positivo ma con riserva, sottolineando come il documento di previsione finanziaria necessita di un attento monitoraggio in merito al mantenimento degli equilibri di parte corrente e dell'attuazione con estrema sollecitudine di ogni azione necessaria in caso di mancato riconoscimento del trasferimento erariale straordinario a fronte delle minori entrate e maggiori spese da sisma. Come a dire, se non arriveranno i fondi richiesti al Governo per ristorare l'ente delle maggiori spese e minori entrate dovute alla fase post-terremoto, 24 milioni stando alle valutazioni del Comune, 18 e 9, secondo la verifica istruita dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sarà necessario predisporre azioni a copertura del disavanzo. Significa che l'amministrazione, non dovessero arrivare le risorse assicurate ogni anno, almeno finora, dall'esecutivo nazionale, dovrà alzare la Tari già schizzata al 20% di un ulteriore 30% a luglio. Il contratto con ASM, come è noto, è pari a 11 milioni e mezzo di euro. Il Comune dell'Aquila in questi anni ha provveduto alla copertura, in misura prevalente, con il gettito di applicazione delle tariffe Tari per l'importo residuo, facendo ricorso alle risorse stanziate annualmente dalle competenti autorità governative. I fondi del Governo, appunto, non dovessero arrivare con l'aumento del 20%, si tirerebbe avanti per qualche mese, poi l'ASM non potrebbe più raccogliere l'immondizia se non a fronte di un ulteriore, pesante aumento della tassazione. Si tratterebbe di un vero e proprio salasso per gli aquilani, sia per le imprese, sia per le famiglie. Intanto, il documento di previsione, così come approvato dall'Aggiunta, passerà al vaglio della Commissione di bilancio per l'approvazione domani, martedì 17, e giovedì 19 maggio, giusto in tempo per il Consiglio Comunale, che dovrebbe ratificarlo con l'assise la prossima settimana.